Ora ragazzi ero per strada, mi sono fermato perché ho avuto un'idea, mi si è acceso un campanello e sono in un campo di olive che non so neanche di chi sia, però faceva proprio al caso nostro, guardate questa pianta qua abbandonata con i succhioni all'interno, ecco a proposito i succhioni perché crescono e comunque quando crescono la pianta ci sta raccontando qualcosa, sta dicendo al potatore o al contadino che c'è qualcosa che non va, che potrebbe migliorare? Assolutamente sì, seguite il video perché è simpatico, carino e veloce. I succhioni e i polloni, rami che sono sempre forti, vigorosi, crescono verticalmente rispetto al piano del terreno, vi sto mettendo qui in alto il link per vedere come si eliminano ad agosto e settembre e comunque crescono sempre sulla parte delle branche quando iniziano ad essere orizzontali, crescono comunque sui rami che iniziano ad avere due o tre anni di vita. Ma perché il succhione cresce sulle piante? Allora innanzitutto che fa la pianta? Ha il suo apparato radicale e la sua parte della chioma esterna, la pianta sempre cercherà di equilibrare la parte dell'apparato radicale con la parte esterna, con la parte vegetativa, perché chiaramente più l'apparato radicale è grande e è esteso, più porterà linfa verso il tronco, salirà su, andrà verso le foglie, le foglie elaborano questa linfa grezza, la trasformano in linfa elaborata che andrà distribuita di nuovo a tutti i rametti, le foglie, i fiori ed i frutti. Proprio perché i succhioni ed i polloni sono rami vegetativi che crescono molto velocemente, se sulla pianta ne ho molti vuol dire che questa chioma era troppo piccola rispetto all'apparato radicale. Che è successo? Ho un apparato radicale molto grande, preleva molta linfa grezza, la distribuirà ai rami, ma se ci sono pochi rami e poche foglie per elaborarla, la pianta fa subito i succhioni, in modo che la linfa grezza viene subito elaborata e distribuita ai rami, alle foglie, ai fiori ed ai frutti. Ecco che se vedo molti succhioni il campanello d'allarme è primo per il potatore, può essere che ha fatto una potatura troppo a corto, troppo a corto vuol dire che ha tolto troppa chioma e la pianta reagisce facendo molti succhioni, quindi che devo fare? Il prossimo anno fare una potatura più a lungo vuol dire togliere meno rami, però c'è anche il campanello d'allarme per il coltivatore, per quello che sta fertilizzando la pianta. Se questa pianta era sempre così bella equilibrata e ad un certo punto nascono molti succhioni, il fatto può essere anche nella fertilizzazione eccessiva, troppo azotata, sulla pianta. Ed ecco che la pianta inizia a mettere questi succhioni per equilibrarsi. Infine possiamo avere molti succhioni quando sulla pianta arriva molto freddo, c'è stata una gelata, una nevicata, oppure c'è stato il fuoco che l'ha investita, lei reagirà con l'emissione di questi succhioni. Questi succhioni a questo punto possono essere quei rami per ristrutturare, per rigenerare nuove branche. Guardate ragazzi qua in questa posizione qui manca una branca, io posso sempre inclinare un po' questo succhione e trasformarlo nella sostituzione della branca mancante, uno spettacolo. Vi saluto ragazzi, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi se non lo avete già fatto, un abbraccio a tutti da Virgiorgio, pollice in su, prodotti biologici, ciao alla prossima!